Ciao ciao a tutti ragazzi in questo video farò l'intervista doppia con mia cugina Galatea E ragazzi scusate tanto se ho postato questo video un po' in ritardo Solo che se mi seguite su Instagram allora sapete perché è in ritardo questo video Cioè perché sono stata malata, ho preso l'influenza Però comunque se non mi seguite ancora su Insta se volete seguitemi adesso mi chiamo così E invece se non mi seguite neanche su questo canale se volete iscrivetevi al più presto Perché quest'estate farò un sacco di video fantastici E adesso incominciamo con l'intervista Nome Allora generalmente dovrebbe essere i Gala no? Però un sacco di persone poi mi chiamano Via Lattea, Pianeti, Galassia, lasciamo stare guardate Età 13 anni 12 anni Descriviti con tre aggettivi Allora secondo me io sono molto dolce, scherzosa ma anche impulsiva Oddio allora determinata, testarda, troppo e dolce dai Il miglior pregio di Galatea Secondo me è una persona su cui puoi contare ed è super simpatica Il miglior pregio di Sofia La diciamo tra i due migliori è che dolcissima e altruista, non so, non so quale dei due migliori Il peggior difetto di Galatea Allora fammici pensare che non ne ha di difetti però è un po' chiaccherona Il peggior difetto di Sofia Il peggiore difetto è dormiglione Che ne dorme troppo, la sicuro e poi dormiglione Chi è la più studiosa di voi due? Sicuramente lei Io Io Il tuo capo d'abbigliamento preferito Dei jeans e magari una maglietta femminile come questa e anche un paio di scarpe da tennis Un top e dei shorts con delle scarpe da ginnastica Sei fidanzata? Non più da parecchio Domanda di riserva? No eh Mi sono lasciata da poco Il tuo ragazzo ideale? Allora Per me deve essere educato, intelligente, un po' solitario Gentile che impazzisce per me Allora Il mio ragazzo ideale? Alto Moro Occhi azzurri Con le lentiggini Con un bel fisico Dai non chiedo troppo Cosa non ti piace di un ragazzo? Allora Naturalmente non mi piacciono i maleducati Questo è sicuro Poi neanche gli arroganti E neppure i ragazzi che non hanno il coraggio di dichiarare quello che provano per una ragazza Allora Di un ragazzo non mi piace quando anche se ci tiene una ragazza non lo dimostra e poi così la perde È già dato il tuo primo bacio? Sì Sì L'ho già dato E Il tuo social preferito? Ovviamente YouTube Oddio Non so Sono indecisa tra Instagram e Whatsapp Instagram vai Il cibo preferito di Sofia? Il cibo preferito? Allora Di sicuro le uova Tutti i modi le uova E poi il secondo cibo preferito? Penso Non lo so Tra uova e insalata di polipo Non lo so Il cibo preferito di Galatea? Sicuramente la cotoletta Il tuo sogno più grande? Allora Il mio sogno è di avere oltre un milione di iscritti sul mio canale YouTube Poi anche di essere una compositrice o di fare la modella E ovviamente quando cresco voglio avere una bella famiglia Allora Il mio sogno più grande? Penso Non lo so Diventare Non è proprio uno dei miei sogni più grandi Però lo stesso Penso diventare famosa su YouTube o su TikTok Non so Come ti vedi fra dieci anni? Direi che mi vedo che faccio la modella E che vivo a Milano E che ho anche un bel fidanzato Ho dieci anni Studentessa di università E magari anche fidanzata Sì, promessa e sposa diciamo Che già diciamo sto fondando una famiglia e tutto il resto Forse chiedo troppo Cosa non faresti per nulla al mondo? Per nulla al mondo non mi drogherei mai Per nulla al mondo starei in una stanza chiusa con delle blatte, con degli scarafaggi Tutto ma non Quello no, per favore Che lavoro vorresti fare da grande? Vorrei fare una modella o essere una compositrice? Mi piacerebbe molto fare l'ingegnere Dolce o salato? Oh mamma, devo dire entrambi, però salato Salato Musicista preferito? Ovviamente David Bowie, come sapete già Joe Lennon Salutatevi e salutate i ragazzi che vi guardano Ciao ragazzi Ciao Sofie Un bacione Ciao Galo Un bacio grossissimo E ragazzi, spero tanto che vi sia piaciuto questo video Vi dico che qui sotto nell'info box vi lascio il link al canale YouTube di Galatea E adesso possiamo incominciare con i saluti Ciao Michele Ciao Felipe Ciao Francesca Ciao Sofia non Sofia fanpage Ciao Zineb Ciao Charlotte Ciao Domi06 Ciao Carlo Ciao Chiara Ciao Liguria 2005 Ciao It's Killer Rod Ciao Nonna Gilda Ciao George 2003 Ciao Monica Ciao Asia Ciao Manuela Ciao Rossella Ciao DarkCraft56 Ciao Martina Ciao Giulia Ciao Alessandra Ciao Arianna Ciao Marty Ciao Federica Ciao Ilenia06 Ciao Giola e Francesca E ciao Instagi Ecco qui, spero di nuovo tanto che vi sia piaciuto questo video E ricordatevi di iscrivervi a questo canale Perché quest'estate ci saranno un sacco di video favolosi E comunque ci vediamo nel prossimo E un bacione grossissimo Ciao Ciao